Sono interessato ai temi culturali e sociali sia come persona che come fotografo e in questo caso per questo reportage ho voluto mettere al centro del mio obiettivo i motivi che risiedono alla volontà di fare volontariato. I protagonisti di questo reportage sono proprio i volontari, mantenendo sullo sfondo la città di Milano con i suoi punti di forza e le sue debolezze. La terza Milano racconta quindi questa città alternativa e generosa alla quale accedere è molto più semplice di quello che sembri. Ma non credo che la generosità sia l'unico motivo che guida l'azione di chi intende fare volontariato e non credo che neanche esista una ragione unica che muove le persone a voler aiutare gli altri, però credo in uno scambio reciproco tra chi opera il volontariato e chi lo riceve. Per questo ho voluto creare un reportage fatto di immagini che raccontano la giornata di un volontario a partire dalla propria sfera privata fino al momento in cui esercita il proprio ruolo. Quindi un reportage fatto di ritratti e di fotografie che raccontano i gesti del volontariato. Questo per me è il modo migliore per dare corpo alla terza Milano, quella città in cui risiede la voglia e l'istinto di dare una mano e che trova il tempo da dedicare a luoghi e persone. Sono quindi lieto che questa Milano del volontariato vada in mostra attraverso Voce che vuole essere il vero cuore pulsante dell'impegno civico milanese e sono contento che la Civil Week Lab dia l'avvio di questo impegno che durerà diversi mesi. Ogni settimana due mie fotografie sulla pagina Facebook di Voce racconteranno le tante forme di impegno e di volontariato che ho avuto la fortuna di fotografare. Partiremo dalla fine con uno scatto durante le drammatiche settimane del Covid in cui l'impegno di molti cittadini milanesi è stata la testimonianza dell'amore più profondo verso la nostra città. Un impegno che è valso e il titolo di Cavaliere della Repubblica al soggetto di questa prima fotografia.